Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, vi ricordate il video che ho pubblicato ieri riguardante Momo, questo presunto mistero social? Allora, non si tratta di un mistero, ma questo lo sapevamo già, infatti anche io vi dicevo ieri che secondo me non c'è niente di paranormale, misterioso, inquietante, anzi il volto di questa statuetta, perché di una statuetta si parla, fa anche ridere e mi fa tenerezza, cioè queste non sono le cose inquietanti, mi dispiace, ma per me non lo sono. Comunque devo ringraziare alcuni di voi che mi sono venuti, cioè sono venuti da me e mi hanno comunicato che questa non è altro che una truffa. Si tratta di una truffa, io nel momento in cui ho realizzato il video che ho pubblicato ieri, non sapevo si trattasse di una truffa, altrimenti il numero di telefono non ve lo avrei messo, inserito per nulla al mondo, perché capisco che ci sono magari ragazzini più piccoli che abboccano facilmente a tutte queste storie che vedono sul web, che sentono su YouTube e quindi cercano di chiamare. Non chiamate questo numero perché a quanto pare nel momento in cui lo chiamate vi scala tutto il credito, quindi ovviamente vi dico non regalate, cioè non sperperate credito, non regalate soprattutto credito a dei truffatori, a gente che non sta bene col cervello e non si fa curare, gente che non sa che farsene della propria vita, come vi dicevo anche ieri, e purtroppo mette a repentaglio, tra virgolette, anche quella degli altri con questi giochini, con queste truffe campate così, cioè è assurdo, veramente veramente assurdo. Comunque siamo nel 2018, bisogna sempre più aprire gli occhi, perché più andiamo avanti, più questa tecnologia progredisce, come vi ho già detto nel video in cui proprio parlavamo, della tecnologia che va sempre avanti, quindi usciranno e si inventeranno nuovi modi per truffare la gente. E dato che il paranormale è un qualcosa che affascina tanti, lo fanno utilizzando appunto queste cose misteriose, apparentemente inquietanti, che poi inquietanti non sono, almeno io parlo per me. Non chiamate il numero e evitate proprio di guardare tutti i video di gente che vuol far spacciare questa truffa come una cosa vera, e cioè farvi credere che questa momo esiste, uccide, non uccide, non credete a tutto questo. Non chiamate il numero, perché poi sono addirittura venuta a sapere che non c'era soltanto un numero, ma tre. Cioè, proprio sono scesa dal pero, e infatti una persona sotto il video scriveva perché hai inserito il numero, io veramente non sapevo si trattasse di una truffa, altrimenti per nulla al mondo avrei inserito quel numero di telefono. Vi do appuntamento alla prossima, volevo soltanto dirvi questo, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, e noi ci vediamo al prossimo video.